Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al primo appuntamento di scrittori di scrittura, un progetto nonché una collana editoriale, eccolo qua, questo è il libro freschissimo di stampa perché è uscito proprio per questa prima presentazione, promosso e organizzato dall'Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino in collaborazione con la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sezione torinese, amici di Torino Spiritualità, di noi tre eventi ed è fatta editrice che non a caso è proprio la casa editrice che pubblicherà questi primi quattro libri di un progetto che speriamo continui e continui a lungo, ma adesso poi vi racconteremo bene. Io inizio subito col presentare, anche se la persona che ho al mio fianco forse non ha bisogno di particolari presentazioni, soprattutto in questa sala, coloro che sono sul palco vicino a me. Prima di tutto abbiamo Margherita Oggero. Margherita ha pubblicato tantissimi libri, come sapete molti, con protagonista la professoressa Camilla Baudino, che poi hanno dato via anche a un film, a una versione cinematografica con Luciana Littizzetto, hanno dato via a una serie televisiva con Veronica Pivetti, ha poi pubblicato anche altri bellissimi romanzi, in particolare per la Casa di Ciamondadori, ed è stata soprattutto la prima scrittrice torinese che si è messa in gioco su questa particolare proposta che la Pastorale della Cultura le ha fatto, cioè quella di prendere un brano delle scritture sacre e riscriverlo, ma proprio di questo vi racconteremo questa sera. E poi a destra c'è l'insegnante di Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica Torinese, nonché responsabile dell'Ufficio Pastorale della Cultura della Giosi di Torino, nonché l'ideatore del progetto scrittore di scrittura, Don Gianluca Carrega. Tra i soggetti che organizzano questo appuntamento e questo progetto, ce n'è uno al quale noi teniamo particolarmente. È, come dire, un onore per noi poter collaborare con manifestazioni così importanti come Torino Spiritualità e con una realtà associativa così importante come amici di Torino Spiritualità, e quindi credo che sia giusto lasciare una parola per un saluto iniziale alla responsabile di questa associazione, Maria Chiara Giorda. Buonasera a tutti, vedo tanti volti con cui ci conosciamo perché non è la prima volta che ci ritroviamo in uno dei percorsi che ha non ideato questa volta, ma ha aiutato insomma a costruire che è amici di Torino Spiritualità, faccio ovviamente un po' l'ospite, non dico la padrona di casa, ma chi accoglie, quindi ringrazio senza dubbio i relatori di questa sera, Margherita Oggero che inaugura questo ciclo, e sottolineo come un po' abitudine di amici di Torino Spiritualità l'importanza della continuità. Siamo qua questa sera ad ascoltare il primo di una serie di quattro appuntamenti perché si ripeteranno in febbraio, in marzo e in aprile con altri scrittori, ma è tutto direi molto ben comunicato sia sui siti sia sul materiale che trovate fuori in galleria e quindi tengo davvero un po' a invitare chi è presente questa sera a proseguire il percorso con noi, perché credo che sia importante darsi non solo un'occasione ma del tempo e prendersi del tempo per fare un percorso. Questo è un percorso e su questo siamo stati fin dall'inizio molto concordi tutti insieme i soggetti organizzatori, è un percorso di quattro appuntamenti ma è un percorso che noi immaginiamo debba proseguire poi anche oltre questi quattro appuntamenti, non anticipo nulla perché un po' lasciamoci anche la sorpresa per quello che sarà ma quindi davvero do il benvenuto a tutti e mi auguro di vedere i volti che scruto, che in parte conosco, in parte riconoscerò spero le prossime volte di qui nei prossimi mesi. Quindi grazie davvero, buon incontro, buon ascolto e buona partecipazione. Grazie davvero a Maria Chiara ma grazie davvero all'Associazione Amici di Torino Spiritualità. Come dicevo è per noi un onore poter collaborare con questa nostra sfida che è una sfida letteraria. Maria Chiara vi ha già raccontato alcuni degli aspetti del progetto scrittore di scrittura, c'è poi Don Gianluca che chi meglio di lui ce lo potrà raccontare in quanto ideatore. Io vi dico solo, avete visto, ci sono quattro scrittori, passano anche spesso e volentieri su quelle che sono le slide qui di fianco a noi e tutto quello che vi dirò adesso lo trovate su un sito www.scrittoridiscrittura.it che magari ricorderemo ancora nel corso della serata. A febbraio toccherà Gianluca Favetto, a marzo a Silvana De Mari e ad aprile a Elena Lowenthal. Quattro libri a cui corrispondono anche quattro eventi, quattro presentazioni ufficiali, poi magari giustamente i libri come tutti i libri avranno una loro storia, una loro vita anche al di fuori del circolo dei lettori, però quattro eventi di presentazione ufficiale al circolo dei lettori, quattro reading presentazioni, abbiamo anche delle voci narranti particolari, più tardi ve le presenterò. Come vi dicevo trovate tutto sul sito. Per la nostra chiacchierata di presentazione di Amen, questo è il titolo, importante anche il sottotitolo, Memorie di Isacco con Margherita Oggero, utilizziamo un po' quella che è la struttura del libro, quella del testo. Tutti i libri iniziano con quello che è il testo sacro, quindi ci sono le parti, tra l'altro con una traduzione inedita, curata direttamente da Don Gianluca Carrega, ci sono le parti sulle quali si è ispirato lo scrittore o la scrittrice. Vi è poi una parte, e qui passiamo proprio la parola al biblista, che si intitola non a caso La parola del biblista, che poi in particolare in questo caso è curata proprio dal responsabile del progetto, Don Gianluca Carrega. Partiamo da lì, chiediamo a Don Gianluca di farci raccontare l'idea di come la diocesi ha deciso di far partire questa, che prima ho definito questa sfida letteraria, e poi toccheremo alcune delle parole chiave che ci sono nella sua introduzione al racconto bellissimo, lo dico fin dall'inizio, di Margherita Oggero. Don Gianluca Carrega. Allora, intanto grazie e buonasera a tutti. Questo progetto ha radici piuttosto lontane, nel senso che io un paio di anni fa mi sono trovato a essere chiamato come successore di Don Ermis Segatti nella pastorale della cultura, compito da far tremare i polsi, perché lui è passato anche prima a salutarci, è un personaggio eclettico di amplissime vedute e cultura, io chiaramente faticavo a pensare di poter portare avanti un'eredità così. Dopo un attimo di assestamento ho pensato proviamo a fare quello che mastico di più, quindi io ho una competenza come docente di scrittura o degli interessi letterari, proviamo a mettere insieme queste due cose, secondo me è una formula che trovo abbastanza interessante. Quindi l'idea che si potesse mettere in dialogo questo testo così rilevante, sia dal punto di vista religioso ovviamente, perché è riconosciuto come un testo sacro da una parte dell'umanità, sia un testo culturalmente interessante anche per chi credente non è, ma ne apprezza le caratteristiche letterarie che non sono affatto da sottovalutare. Allora è nato l'interesse di provare a suggerire un dialogo tra queste due parti ed era necessario che questo dialogo fosse portato avanti da persone competenti in un ambito o nell'altro, quindi tramite appunto amici, collaboratori, lui e Stefano della Di Noi Tre Eventi che mastica di queste cose e che ci conosciamo da tanti anni, l'idea era proprio di trovare sulla scena torinese scrittori non solo capaci ma anche disponibili a mettersi in gioco su questo, perché obiettivamente è anche una sfida, quindi anche la gratitudine che va a Margherita e di aver accettato questa proposta che partiva da quattro pischelli perché obiettivamente l'età media nostra è piuttosto giovane e nessuno di noi ha particolari competenze in alti giri, a ganci eccetera. Poi le cose sono nate così cammin facendo, nel senso si parla con Stefano, quella di noi tre, andiamo al sorone del libro, andiamo all'area lounge e incontriamo Antonella Parigi che si mostra interessata a questo progetto, insomma compagni di viaggio che si aggregano perché è bello fare una proposta di genere ma poi vuoi che non rimanga qualche cosa di un progetto di questo tipo? Allora chiaramente bisogna coinvolgere un editore che sia interessato a seguire un'iniziativa di questo genere, allora conoscevamo EFATA con cui abbiamo collaborato per altre iniziative e sono stati anche loro entusiasti nel buttarsi in questa iniziativa, ecco direi che se c'è proprio un termine che rende bene questa iniziativa direi che è questo, entusiasmo, la voglia di buttarsi su qualche cosa che ci piaceva fare e di cui stiamo godendo obiettivamente, per cui questa sera è proprio bello essere qui a vedere dei risultati che cominciano a vederci di questa iniziativa. Entusiasmo, una parola che ci piace molto, poi non a caso sapete che c'è anche proprio una card, no? La card entusiasmo, vedete che altrettutto le persone che la posseggono hanno anche i posti in prima fila, gli incontri più importanti, quindi è una parola che magari tornerà anche spesso e volentieri all'interno della nostra serata. Adesso però Don Gianluca, prima di passare alle parole di Margherita Oggero, che poi in realtà sono le parole di Isacco, prima ho sottolineato il sottotitolo Memoria di Isacco del libro che presentiamo questa sera, ti tocca fare la parte del biblista nel vero senso della parola. È molto bella anche, secondo me, l'introduzione al racconto di Margherita che ha firmato Don Gianluca Carrega. Ci sono dei termini chiave, io ne ho presi tre, proprio dalle primissime righe. Uno è risata e per chi è un po' addentro i testi sa che in realtà risata è semplicemente la traduzione del nome di Isacco. E gli altri due però sono lacrime e sangue, che sembrano un contrasto troppo forte con il primo termine che è quello di risata. Raccontaci come mai possiamo utilizzare questi termini per raccontare Isacco dal punto di vista della scrittura teologico e io riprendo una cosa, un'altra tua citazione. Potrebbe essere una delle spiegazioni perché le cose nella realtà sono sempre più complicate di come si possono immaginare astrattamente. Sì, naturalmente. Adesso io riassumo brevemente, anche per chi fosse digiuno di storia biblica, qual è l'evento che dà origine a questo nome significativo di Isacco. La nascita di Isacco avviene in circostanze decisamente particolari. Suo padre ha 100 anni, sua madre 90. Sono una bella età, ecco, per avere un figlio. Quando viene miracolosamente annunciata questa nascita, ma non posso dire troppo perché questo sarà poi argomento di una delle prossime presentazioni di libri, scappa un sorriso, un modo quasi scettico di accogliere questa annunciazione di una maternità da parte di Sara. E questo diventa il nome di questo giovane, il quale poi però continuerà a ridere. Cosa bella, questa risata accompagna Isacco in tutta la sua storia perché poi Isacco ride, scherza con il suo fratellastro Ismaele ed è curioso che ci sia questo gioco appunto sul nome di Isacco. I latini parlano di nomen omen. Adesso dico la boiata della serata, ecco, che abbiamo messo come titolo a questo libro Amen, se li mettevamo sotto titolo Amen, nomen omen diventavano scioglilingue impronunciabili, ecco. Però capite cosa vuol dire? Cioè si gioca sul nome stesso perché il paradosso, ma fino a un certo punto perché la Bibbia è intrisa di ironia e spesso anche di un'ironia tragica, il paradosso è che questo ragazzo con il nome di Risata ha una vita drammatica per certi aspetti, no? Si porta dietro tutto un bagaglio di attese perché potete immaginare com'è la vita di un figlio desiderato, iperprotetto, cioè vorrebbe essere schermato da tutte le difficoltà della vita. Allora permettetemi questo riferimento da classicista, a me la storia di Isacco per certi aspetti ricorda la storia di Meleagro, il mito degli argonauti eccetera, insomma la storia di un giovinetto la cui vita è appesa un filo che si fa di tutto per proteggerla ma tanto di fronte al fatto al destino c'è niente da fare. In fondo anche Isacco in qualche modo viene protetto, c'è questa scena drammatica in cui il suo fratellastro Ismaele viene allontanato perché poteva rappresentare una minaccia in futuro per lui, insomma tra fratelli sapete che non sempre le cose corrono bene, Caino e Abele insegnano, no? Allora per evitare che un domani Ismaele potesse accoppare Isacco è meglio preventivamente allontanarlo, quindi si cerca di mettere Isacco nelle condizioni più secure possibile e poi a un certo punto sale su quella montagna e lì non c'è schermo che tenga perché il coltello sembra che si stia abbattendo inesorabilmente su questo ragazzo. Allora vedete che dietro questo nome c'è davvero un'ironia tragica, quella risata in realtà è una risata impastata appunto di lacrime e sangue perché è la sofferenza che si porterà dietro per tutta la vita, forse anche un po' il rimorso che suo fratello sia stato allontanato per causa sua, è il sangue che sta per essere versato e si salva soltanto perché la mano di Dio ferma suo padre ed è la tristezza anche di questo ragazzo cresciuto quando morirà sua madre, c'è anche questo aspetto molto bello, molto romantico della figura di Isacco. Isacco è un personaggio malinconico, è questo adulto cresciuto che però di fronte al dramma della morte della mamma diventa triste e finché non arriverà un'altra donna nella sua vita non riuscirà a recuperare la sua serenità, per cui questa apparente scherzosità, questa facilità al riso che caratterizza la sua nascita poi in realtà diventerà una risata tragica nel corso della vita di Isacco fino agli eventi poi conclusivi della sua vita. Riprendo un altro termine chiave che hai citato poco fa, malinconia. Malinconia è un termine che ritorna poi anche nel racconto che ha scritto Margherita. Penso che sia giusto adesso passare la parola a Margherita prima di entrare nel primo momento delle letture tratte d'Amen. Abbiamo sentito il racconto di come è nato il progetto scrittore di scrittura, da chi chiaramente l'ha pensato, l'ha ideato e come poi è stato appoggiato dalla diocesi, è bello sentire anche l'altra parte, no? Come uno scrittore, una scrittrice, quando gli viene fatta una proposta abbastanza balzana, cioè del prendere carta bianca, la parte della Bibbia, il personaggio della Bibbia antico o Nuovo Testamento che fosse e decidere di riscriverlo secondo la propria sensibilità. Quindi come è stata accolta questa proposta da Margherita e poi il perché Margherita Ogero ha scelto di incentrarsi su il personaggio di Isacco in un particolare momento della sua vita, negli ultimi giorni della sua vita. La Bibbia, se non sbaglio, cita un'età come 180 anni, quindi ai tempi probabilmente stavano tutti meglio e quindi avevano queste vite più lunghe. Come mai raccontare questo personaggio da quel particolare punto di vista? Margherita Ogero. Buonasera, grazie intanto a tutti di essere qua. Allora, come ho accolto questa proposta? Beh, come una sfida evidentemente. Una sfida per me abbastanza ardua perché forse è bene che io lo dica subito, io non sono credente e quindi per me era un avventurarmi in un terreno non che non conoscessi perché la Bibbia credo di conoscerla forse anche presuntuosamente meglio, me un po' di più di quanti magari non sono credenti, sono più molto credenti o tiepidamente credenti o credenti senza avverbi. Infatti l'ho messo subito in chiaro, ho detto io sì accetto la sfida però non posso fare qualche cosa di a geografico perché non me la sento. Perché poi Isacco? Beh, perché Isacco è uno dei personaggi più tragici della Bibbia, proprio un personaggio che ha in sé una serie di caratteristiche diciamo da tragedia greca, cioè che hanno non ispirato la tragedia greca ma insomma che comunque poi si ritrovano nella tragedia greca o magari in Shakespeare, cioè secondo me è uno dei personaggi più, che più colpiscono nella Bibbia. E poi ho voluto raccontare Isacco alla vigilia della morte, è un Isacco piegato nel corpo, cioè molto malato, molto sofferente, che sente l'avvicinarsi della fine e anzi la desidera proprio perché ha dei mali fisici così forti che ambisce la morte. Quindi non un personaggio che tema la fine, un personaggio solo perché è morto ovviamente il padre, è morta la madre, è morta la moglie, questa moglie con cui ha avuto un rapporto teso tutto sommato e anche un rapporto per molti versi, io l'ho letta così, di incomprensione e di rivalità addirittura. È affidato alle cure dei servi, questo l'ho immaginato io ma penso che fosse così, ambisce la morte e si interroga. Si interroga soprattutto riandando ai momenti della vita passata perché è chiaro che quando non c'è più futuro su che cosa si medita sul passato e sul presente evidentemente il presente è un presente di morte in agguato e il passato è un passato che lui rivive in qualche modo con la presenza della fine davanti. Il personaggio che io ho cercato di raccontare è un personaggio che non ha la fede granitica di suo padre Abramo, è un personaggio che proprio perché è stato segnato da quell'episodio terribile del sacrificio mancato all'ultimo minuto pur credendo e obbedendo a quelli che sono i dettami del Dio, del Dio biblico, ha dei dubbi e soprattutto ha questo rovello e cioè perché Dio ci ha creati e poi non ci ha permesso di conoscerlo, cioè il suo desiderio di capire perché Dio ha fatto, ha voluto certe cose. Il padre non si chiede perché Dio gli imponga di sacrificare Isacco, anzi questo è un rimprovero che in qualche modo può muovere Isacco al padre. Il padre non implora una scelta o comunque un dettato più mite da parte del Dio, si dichiara immediatamente, si dichiara, esegue quello che l'Eterno gli ha chiesto. Mentre questo stesso padre si era fatto promotore di una sorta di trattativa con Dio. Il padre aveva trattato con Dio a proposito di Sodoma e di Gomorra e perché non tratta a proposito della perdita del figlio. Forse il personaggio biblico non si sarebbe chiesto questo ma oggi sicuramente c'è un dubbio che viene leggendo la Bibbia. Io ho voluto raccontare naturalmente una visione estremamente soggettiva, un Isacco che è segnato per sempre da questo episodio che avviene nella sua relativa giovinezza. Qui le fonti sono molto controverse perché alcuni commentatori e così alcune analisi della Bibbia parlano di un'età adolescenziale, preadolescenziale, altri dicono che aveva 33 anni o 30 anni, anche perché Isacco in qualche maniera è il precursore della figura di Cristo, anche se Cristo accetta consapevolmente il suo ruolo mentre a Isacco nessuno ha chiesto nulla, cioè non gli ha chiesto il permesso di essere sacrificato. Io l'ho immaginato invece adolescente, ho immaginato che avesse 12, 13, 14 anni, insomma più o meno quest'età dal momento che non esistono indicazioni certe dell'età che avesse. E poi è un personaggio che come molti peraltro nella Bibbia entra direttamente in polemica con Dio, perché i personaggi biblici che entrano in polemica con Dio, pensiamo a Job, hanno con Dio un rapporto proprio dialettico, cioè non di accettazione totale dei dettati o comunque della volontà, ma un chiedere. Perché? come mai? È proprio un desiderio se vogliamo di razionalità o comunque un desiderio di conoscenza dei fini ultimi che per esempio si ritrova meno nel Nuovo Testamento, secondo me nel Nuovo Testamento non c'è questo rapporto. E questo è stato il motivo della scelta di Isacco. Adesso vi facciamo sentire la prima parte, ci saranno due estratti lungo la serata della voce di Isacco, che poi è la voce di Isacco che ha deciso di dargli Margherita Oggero. Introduco quindi le voci narranti della serata, Giuse di Giorgio e Cinzia Ferrero. Padrone, l'aria della notte non ti giova. Però è tanto dolce ed è per questo che voglio restare qui. Se resti puoi ammalarti. Sono già ammalato Efer, perché la vecchiaia è una malattia da cui non si può guarire. Sia come vuoi, ma quando la luna sarà alta nel cielo, tornerò per condurti dentro la tenda. O preferisci che rimanga qui, accanto a te? Torna più tardi. Ora lasciami qui coi miei ricordi. Non parlava molto mio padre. Le parole degli uomini, disse una volta, hanno più facce. Nascondono inganni, hanno sensi volubili e si piegano alle attese di chi le ascolta. Quelle di Dio invece no. Il suo sì è sì. Il suo no è no. E i suoi comandi non si interpretano né si discutono. In quei tre giorni di viaggio, quei giorni indimenticabili scolpiti della mia memoria come in una stele, mio padre fu quasi muto. camminava assorto, di buon passo, chiuso in sé. E ogni tanto spronava l'asino perché accelerasse. Come se avesse una gran fretta di arrivare alla meta. Il suo travaglio l'ho capito dopo, e adesso mi accora. Ma allora pensavo che qualche momento di sosta avrebbe potuto concederlo a noi e a se stesso. che la fretta imperiosa fosse solo una manifestazione di potere, una specie di voluta arroganza. Tre giorni che nella memoria si sono dilatati, sono diventati settimane, mesi, anni e hanno gettato un'ombra cupa su tutta la mia vita. Allora io ero un ragazzo e nel cammino mi svariavo coi pensieri da ragazzo. Ma quando giunti in vista del luogo della montagna, mio padre congedò i servi e l'asino, mi affardellò della legna per il sacrificio e prese con sé il fuoco e il coltello. Il mio cuore cominciò a tremare e le sue parole di risposta alla mia domanda... Per la prima volta mi parvero intrise di doppiezza. Il pendio era ripido, le mie gambe si erano fatte di pietra. Un sudore di paura quasi mi accecava. Padre, imploravo in silenzio, dimmi che non è vero quello che temo. «Sciogli la mia angoscia! Tu che mi hai generato non puoi darmi la morte!» Ma quelle parole non mi riuscì di articolarle, perché il terrore si scontrava con l'incredulità e il rispetto mi faceva groppo in gola. Continuai a restare murato nel silenzio e quando lui, dopo avermi legato e posto sull'altare che aveva eretto, impugnò il coltello per scannarmi, qualcosa di me morì. La ferita da cui avrebbe dovuto sgorgare il mio sangue non si rimarginò mai. E il suo pus infetto si è trasformato in domande senza risposta. Domande che hanno avvelenato la mia vita e avvelenano questa vigilia di morte. «Abramo, padre mio, quanto mi amavi! Non abbastanza per implorare da Dio una prova più mite. E tu, signore mio, che il tuo nome sia sempre benedetto, perché ci hai creati a tua immagine e somiglianza, ma non ci hai concesso di capirti?» Il rumore lieve dei passi zoppicanti di Efer si è avvicinato e ora lo sento ritto a fianco del mio letto. «Padrone, la notte avanza in cielo e in terra, l'umidità cresce e domani le tue ossa gemeranno.» «Gemono già adesso, Efer. Non smettono un istante di lamentarsi.» «Allora, vieni dentro, padrone. Lascia che ti aiuti.» «Non voglio interrompere il sonno di Kelev, che nei suoi anni di cane è vecchio quanto me.» «Kelev ha già aperto gli occhi e nella sua mente di cane di sicuro preferisce il riparo della tenda a quello delle frasche.» «Allora andiamo dentro. E poi dammi una tazza di quell'infuso che sai.» «Sara e Rebecca, le due donne della mia vita, entrambe bellissime, entrambe colpite dalla disgrazia della sterilità, a cui il Signore, che il suo nome è sempre sia lodato, volle poi porre rimedio. Ma per lunghi anni entrambe furono esacerbate per la presenza del sangue mensile e delle regole, per l'amarezza del ventre sempre piatto, per la gelosia verso ogni seno turgido di latte. Se la maternità è l'orgoglio di ogni donna, quanto è umiliante la sua mancanza. Quanto furono dolorosi per mia madre e mia moglie tutti gli anni passati a vedere le donne di famiglia e le schiave che partorivano figli uno dopo l'altro, bambini e bambine che reclamavano poppate, gattonavano davanti a casa, imparavano a reggersi sulle gambe, farfugliavano suoni e poi riuscivano a pronunciare «em». La durezza di mia madre arrivo a capirla solo ora. E se Rebecca si allontano da me e si aggrappò al frutto del suo ventre, fu forse per reazione a lungo periodo di sterilità. Ma dei gemelli ne amò uno solo e sempre tramò contro l'altro che più mi somiglia. Per punirmi, credo. Perché anche lei, come Sara un tempo, non riuscì mai a perdonare sino in fondo suo marito. Ecco, avete sperimentato in parte chiaramente quello che è capitato a noi responsabili del progetto alla lettura dei manoscritti degli scrittori, in particolare del primo manoscritto che è giunto per il progetto, quello di Margherita. Questi personaggi conosciuti, magari da alcuni molto, da altri poco, io sono assolutamente d'accordo, apro una parentesi, quando ho detto la conoscenza del testo sacro di Margherita O'Gero abbiamo avuto modo di chiacchierare e con Don Gianluca prima ci siamo detti facciamo fare a Margherita anche la parte del biblista. Così non abbiamo problemi, abbiamo una voce meno. Però è assolutamente vero. Però è evidente che un'altra delle ragioni del progetto è quella di instillare curiosità nei confronti di un testo letterario affinché poi si decida magari di riaprire libri che si crede conosciuti. Però come vi dicevo, questi personaggi che prendono vita ben oltre la pagina perché avete sentito una delle parti delle letture di Giusi e di Cinzia faceva riferimento invece a quella fase forse conosciuta da tutti del mancato sacrificio di Isacco. Giustamente però Don Gianluca nella sua introduzione ci dice cosa pensa il padre, cosa pensa il figlio, la scrittura non lo dice. La stessa identica cosa accade anche poi in un altro dei passaggi fondamentali della vita di Isacco. L'episodio della benedizione carpita dal figlio Giacobbe nei confronti di Esauca in teoria a cui spettava come primogenito anche se aveva anche perso la primogenitura. La storia di Isacco è estremamente affascinante e ha un qualcosa come diceva prima Margherita della tragedia greca. E anche lì ci viene detto, di nuovo la scrittura è estremamente silenziosa al riguardo non c'è alcuna valutazione morale dell'accaduto tocca al lettore esprimersi sugli eventi. Allora noi non volevamo chiaramente con questo progetto dare delle valutazioni morali volevamo far esprimere il lettore ma in realtà far esprimere anche delle voci autorevoli come le voci degli scrittori torinesi, per prima quella di Margherita. Riparto da degli altri termini chiave. Abbiamo detto che Isacco negli ultimi giorni della sua vita ripensa a quella che è la dimensione maggiore per lui, quella del passato, quella della memoria. Anche lì tornano dei termini chiave, malinconia è stata citata prima anche da Don Gianluca, rimpianto e vergogna. Ma soprattutto, lo accennavi prima, c'è questa rassegna di forti domande senza risposta. Come sei riuscita a trasferire su un testo, che è un testo narrativo contemporaneo, che esce oggi fresco di stampa, quella che invece se vogliamo rapportarsi con un testo per alcuni passaggi letterari antico. Tu sei riuscita a trasferire questa sensazione e questo rapportarsi con delle domande che in realtà invece sono domande fortemente contemporanee. Sì, sicuramente quello che avevo detto prima. Già Isacco è poco biblico nella mia ricostruzione, nel senso che ha gli interrogativi e le rimostranze che in parte appartengono, sì, alle caratteristiche bibliche, quelle appunto di entrare in dialettica con Dio, eccetera. Però la fede di Isacco non è una fede antica, non so. Mi sembra che sia una fede più odierna, cioè la fede di chi ha il dono della fede però si fa delle domande che ovviamente non possono avere risposta. Scusate, perché sono quelle domande ultime alle quali non c'è risposta, alle quali o si risponde no, non credo, oppure si risponde sì, credo, anche se non capisco. Allora, credo, qui absurdum, va bene, o credo, ut intelligam o intelligent credam, non lo so, tutte le grandi domande che si sono fatte a tutta la filosofia medievale e successiva, ma a cui poi è arrivata anche perché l'analisi, lo studio, la riflessione contemporanea dei grandi teologi della contemporaneità che ovviamente sono credenti e credenti saldi, però pur avendo questo dono della fede non rinunciano a farsi delle domande sulla nostra esistenza, sulla precarietà, sulla fragilità, sulla irrazionalità del vivere e sulla irrazionalità di tanti aspetti della nostra vita. Ovviamente Isacco crede perché però è una fede che arriva sull'orlo del rifiuto della fede stessa, quando alla fine non sa che cosa lo aspetterà, insomma, e a un certo punto pronuncia questa formula che mi ha dato molto da pensare questo Amen perché Amen è una affermazione, cioè è una forma di affermazione. che vuol dire sicuramente, che vuol dire in verità, che vuol dire così è, che vuol dire così sia, che vuol anche dire appunto sicuramente e chiude proprio con questa parola però sul dubbio estremo, cioè sul dubbio estremo dell'esistenza di Dio e la chiude con questa formula che vuol dire tante cose che poi è anche la formula con cui si chiudevano le preghiere prima della riforma liturgica, prima della riforma delle preghiere stesse, insomma, Amen, che noi interpretiamo come un così sia normalmente, però ha, da quel che ho potuto capire, perché io non conosco l'ebraico antico, però ha in ebraico moltissimi significati, può anche voler dire che è così, è così però lo dice sulla sua ultima affermazione che è un'affermazione di dubbio, che non si può dire affermazione di dubbio, ma forse sì, cioè quando uno esprime un dubbio esprime anche un'affermazione. Ma a me tutti questi termini, dubbio, in contrasto fede, quindi credere, penso che poi un'altra delle parole che non è ancora stata utilizzata, ma che sia una parola chiave importante, che sia importante per il nostro progetto, che sia importante nella vita di ciascuno e ricerca. In fondo, Isacco è evidentemente un personaggio, anche l'Isacco pieno di dubbi del racconto di Margherita, ma è un personaggio, nonostante abbia 180 anni, se non gli ultimi giorni della sua vita, ancora in ricerca. E ricerca è anche un po' uno dei termini chiave del nostro progetto. Prima Margherita ha detto una cosa importante, lei è stata onesta fin dall'inizio e ha detto io non ho la fede e la nostra risposta è stata non è una delle cose importanti per partecipare al progetto. Abbiamo detto scrittore, abbiamo detto scrittore di chiara fama, scrittori torinesi, di residenza torinese, semplicemente perché è un progetto che parte dalla diocese di Torino, ma volendo potrebbe essere replicato e poi non è nulla di rivoluzionario e magari poi appunto il fatto che si sia persone in ricerca, il discorso della fede non era una delle caratteristiche importanti ed è stata una sfida e quindi è stata una sfida per Margherita come è stata una sfida da parte nostra. A questo punto però prima di passare a una curiosità che lancerà anche poi il continuare del nostro progetto e la seconda parte di lettura ho invece una domanda per Don Gianluca Carrega perché invece Don Gianluca, persona abituata a leggere i testi sacri, se vogliamo, nelle varie traduzioni, ma conoscitore dei testi sacri e conoscitore di tantissimi testi che analizzano questi testi sacri, al di là della piacevolezza del leggere anche perché l'ho detto fin dall'inizio è uno degli ideatori del progetto, quale sensazione ha provato nel leggere l'Isacco raccontato da Margherita Ogero? Ovviamente è stata una sensazione di piacere anche se poi è subentrata ovviamente la domanda che inevitabilmente si faranno anche alcuni di quelli che prenderanno questo libro tra le mani, cioè la lettura che dà Margherita Ogero di Isacco è lecita o non è lecita? Ossia, ma non dal punto di vista se vogliamo dell'aspetto religioso, dal punto di vista di chi si mette a rifare un'opera e quindi in qualche modo amplifica quello che è il personaggio di Isacco dentro la Genesi. Allora qui sottolineo questa parola che non è scontata, il personaggio di Isacco Isacco è un personaggio e questo a livello narratologico è importante. Il personaggio non è semplicemente uno che svolge una funzione, non è uno che sai già come si comporterà in una data situazione. Faccio un esempio banale perché ci capiamo. Le maschere della commedia dell'arte italiana. Tu sai che quando entra in scena quella maschera c'è uno che è avido, uno che è un burlone, sai già prima come si comporta quel personaggio. Ora, i personaggi veri della scrittura invece non sono preventivabili, quindi uno come Isacco tu non sai come si comporterà a seconda delle situazioni, non sai se sarà furbo o sciocco, non sai se sarà ingannatore o ingannato, non sai se si comporterà bene o male, perché anche questo è l'aspetto interessante. Noi avevamo una lettura della Bibbia un po' troppo moralistica, specie dell'Antico Testamento, cioè ci aspettiamo di avere una galleria di personaggi esemplari, ma non è vero, non è assolutamente questa la funzione dei personaggi biblici. E invece cercare di ricollegare la fede alla storia, e questo è molto importante, far parlare Isacco, fargli dire delle cose che non dice nella scrittura, non è abusivo, in un certo senso è quello su cui ti provoca la scrittura stessa, che è reticente su molti aspetti, perché vuole che sia tu a dar voce a quel personaggio. E questo direi che invece è molto importante, che la sfida di una rinarrazione di questi brani coglie quella che è la provocazione della Bibbia, la quale non dice tutto, immaginate in pochi versetti quel cammino di due giorni fatto da Isacco e Abramo, no? Ma che si sono detti in tutto quel tempo? E ti vola via in due versetti, ma in realtà ci sono due giorni di cammino imbarazzantissimo. Sarà stato difficile anche guardarsi negli occhi, altro che parlarsi, no? Quindi quando noi andiamo a riempire questi vuoti della scrittura, in realtà noi non stiamo facendo niente abusivo, ma è qualcosa su cui ci provoca la scrittura stessa. C'è una parte, una riga praticamente di questo, della vita di Isacco, di quando lui incontra Rebecca, la moglie, ed è un pezzo di una forza espressiva straordinaria, proprio degna di un capolavoro, per sottrazione, perché lui vede da lontano la teoria di cammelli che si stanno avvicinando alla tenda. su uno di questi cammelli c'è una donna la quale a un certo punto scende, parla con chi stava conducendo il suo cammello e poi si copre il viso. Ed è un passo di una bellezza straordinaria perché c'è già tutto il loro incontro in questi due, cioè c'è la reticenza di lei, c'è la provocazione, c'è il nascondersi che non è pudore, civetteria, cioè può essere interpretato come pudore ma anche interpretabile come civetteria, cioè tu mi stai guardando e io mi metto il velo davanti al io. E la Bibbia è in molti momenti questa capacità di evocare una situazione, un incontro, un discorso che magari è accennato solo in tre parole ma che nasconde una profondità. questo incontro tra Isacco e Rebecca è straordinario proprio per l'ellisse che viene fatta di tutto quello che si sarebbe potuto dire perché è un incontro di una seduzione profonda, direi addirittura che è un incontro in qualche modo erotico, non dell'erotismo esplicito, banalizzato, ma proprio di quello che nasce dagli occhi, nasce dal cervello, eccetera. una parte straordinaria anche le altre. Vi dicevo che prima della sezione finale di letture mi avrebbe fatto piacere svelarvi quest'altra storia. In fondo adesso Don Gianluca parlava dell'imprevedibilità del personaggio di Isacco. È anche un po' imprevedibile come si sviluppa il progetto scrittore di scrittura perché dobbiamo ringraziare la disponibilità di questi primi scrittori torinesi che hanno voluto mettersi in gioco su un testo come dicevamo prima chissà se conosciuto ma comunque celebre come la Bibbia e abbiamo iniziato a ricevere chiaramente le prime adesioni e a dare anche una tempistica quindi di come sarebbero usciti i libri. A Margherita Ogero l'avete visto anche perché avete le card anche sulle sedi dove siete seduti seguirà Gianluca Favetto. Il libro di Gianluca Favetto si intitola Un'estrema solitudine ed è un racconto decisamente decisamente particolare personale della creazione e noi ricevevamo questo tipo di informazioni. Quando è arrivato il manoscritto di Margherita Ogero leggendolo a un certo punto ci siamo imbattuti in alcune righe che adesso vi leggerò perché penso che siano un bel modo di concludere poi magari chiederemo anche a Margherita questa sua particolare visione della creazione e di dare il lancio al prossimo appuntamento perché fanno così il Signore doveva essere immerso in una solitudine immensa inimmaginabile per menti umane intorno a lui la voragine del vuoto dell'assenza assoluta senza spazio e senza tempo io con la mia mente di uomo immagino che Dio pur pago di se stesso e della sua perfezione avvertisse il peso della solitudine del nulla e che a causa di questo abbia deciso di porre mano alla creazione queste sono parole di Isacco che quasi sembrano lanciare quello che sarà invece il nostro appuntamento letterale di scrittore e di scrittura del prossimo mese un'estrema solitudine in questo caso c'è un'immensa solitudine di Gianluca Favetto con il suo particolare riracconto della creazione finiamo così in realtà stiamo tornando indietro dal punto di vista cronologico della Bibbia come mai Isacco racconta in questo modo la creazione così vedremo se poi veramente ci sarà un'assonanza particolare letteraria tra Margherita Oggero e Gianluca Favetto Isacco la racconta così perché ha un dubbio terribile e cioè il dubbio che non esprime però è implicito se pensa a queste cose se l'opera della creazione sia un'opera positiva o negativa per l'uomo e cioè in fondo il nulla non era preferibile perché siamo stati creati perché è stato creato il mondo eccetera eccetera ripeto la sua è una posizione di dubbio su tutto e quindi lui immagina che sostanzialmente Dio abbia creato l'universo eccetera la terra gli animali e così via soltanto perché si sentiva solo anche se poi non riesce a capire come un essere perfetto eccetera che ha in sé tutti i gradi della perfezione potesse avvertire una mancanza quindi è anche lì che si dibatte su una sorta di dilemma diciamo tra religioso e il filosofico e poi Isacco è in qualche punto della sua vita anche impertinente nei confronti della divinità appunto nella Bibbia c'è molta ironia un'ironia non immediatamente decifrabile però c'è per esempio Isacco quando immagina il giardino della creazione il giardino dell'Eden cioè immagina con questi animali che ovviamente non si contendono nel territorio nelle prede quindi il lupo giaccia accanto all'agnello eccetera 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 e poi dice si dice pensa tra sé dice che non c'erano probabilmente neanche quegli animaletti tipo i tafani tipo i zanzare e poi si dice perché se c'erano cosa facevano a chi toglievano il sangue poi dice ma forse li ha creati dopo per un aggravio di pena nei nostri confronti quindi ha anche uno spirito estremamente polemico nei confronti diciamo della cosiddetta perfezione della creazione è un uomo decisamente più contemporaneo che non che non biblico d'altra parte io non riuscivo a leggerlo se non così non riuscivo lo stesso per la stessa Bibbia che pure così non reticente ma stringatissima nel raccontare il sacrificio il mancato sacrificio in qualche modo suggerisce l'angoscia di questo personaggio che presumo sia un'angoscia che uno poi si porta dietro per tutta la vita insomma adesso uno così andrebbe da uno psicanalista come minimo perché non credo che basterebbero insomma che si vede il padre che gli punta il coltello alla gola non è che poi insomma cinque minuti dopo dice che bella giornata fa freddo fa caldo ecco io ho cercato di vedere in Isacco un personaggio che ha una sensibilità sicuramente superiore o comunque più avanzata o comunque diversa da quella del suo tempo Margherita Oggero aiutami ad alzarmi Efer voglio stare all'aperto prima che il sepolcro mi rinchiuda per sempre di nuovo pensieri di morte padrone pensieri adatti alla mia età e al mio stato e fa uscire anche Kelev che mi stia accanto come sempre Kelev sembra pigro stamattina oppure le ossa gli dolgono più del solito anche lui patisce il dolore non risparmia nessuno neppure gli animali che non hanno colpe Esau era il maggiore e crescendo restò ingenuo e sprovveduto di fronte alla vita quanto un bambino tenace nei lavori dei campi e nella caccia ma incapace di programmare il domani mentre Giacobbe il minore si rivelò scaltro intraprendente pronto a giovarsi di ogni opportunità a trarre il beneficio di ogni debolezza altrui e tra di loro la presenza ingombrante di Rebecca a dividerli anziché unirli in un affetto equanime Rebecca che parteggiò senza vergogna per il minore per quello più avveduto e più bello Rebecca che non disapprovò la sua frode Rebecca che più tardi si fece sua complice nella menzogna e nell'inganno era brutto Esau quando nacque rosso e tutto quanto come un mantello di pelo ma può una madre disamorarsi di chi ha appena dato la luce perché il suo sguardo non è appagato Rebecca potè e quel figlio irsuto come un animale non le fu mai caro né lo sentì figlio signore perché hai decretato la pena di Esau prima ancora che fosse partorito di che colpa si era macchiato mentre scalciava nel ventre di sua madre perché i tuoi occhi gli furono così ostili il raccolto era stato scarso la siccità prima e la grandine poi avevano falcidiato le messi si viveva nel timore di un'altra carestia e la mia gente sentiva gli effetti della penuria dal cielo non piovevano quaglie come nel deserto e la selvaggina sembrava essere fuggita tutta altrove Esau gran cacciatore e cuore generoso si era spinto lontano portando con sé solo qualche focaccina e una zucca con l'acqua tornò barcollando una sera carico di prede ma stremato dalla fatica e dalla fame polveroso e ansimante si lasciò cadere a terra perché le gambe non lo reggevano più lo stomaco era contratto dal digiuno la vista annebbiata tutto il corpo dolorante al punto che si sentiva morire Giacobbe seduto davanti alla sua tenda aveva appena finito di cucinarsi una zuppa alzò lo sguardo verso il fratello ma non gli indirizzò un saluto né una parola di conforto fu Esau a parlare e a chiedere quasi per carità un po' della minestra rossa e fumante chiunque gliel'avrebbe offerta spontaneamente senza bisogno di essere pregato chiunque ma non suo fratello che si comportava tenendo sempre a mente solo il profitto e in cambio di un piatto di lenticchie chiese sfrontatamente ciò che non gli era dovuto ciò che malgrado la sua bellezza e le mille preferenze materne gli era precluso Esau figlio mio cuore bambino Esau dall'animo semplice di agnello povero Esau che sempre patisti la freddezza materna che io non seppi compensare Esau dimmi quanto grande fu il tuo sconforto in quel momento lo sfinimento del corpo si unì con quello del tuo animo tante volte umiliato e ferito e ti parve di non poter resistere più ecco io sto per morire sussurrassi quasi impercettibilmente che mi giova la primogenitura ma Giacobbe ti udì e prima di porgerti il piatto di zuppa pretese che tu giurassi la rinuncia padrone ti ho portato una zuppa ben cotta che ti riparerà le forze non parlarmi di zuppa Efer un po' di carne d'agnello allora morbida e già disossata non ho fame mangiala tu ma porta qualcosa per Kelev che oggi non si è mosso dai miei piedi neppure lui ha fame padrone e disdegna addirittura il cibo degli uomini forse anche lui come me è sazio di giorni e vuole dormire per sempre una coppa di vino allora per cacciare via i pensieri oscuri sì una coppa di vino per stordirmi un po' la mia vista era già appannata in un perenne crepuscolo quando fu subdolamente ingannato e non si trattò di un inganno improvvisato a modo di difesa quando si mente per insicurezza per timore per vergogna no quello fu un inganno ordito e messo in atto con un'accurata preparazione Rebecca e Giacobbe al solito a Esau che già si era spogliato di un suo diritto toccava la mia benedizione quella che ogni padre impartisce da sempre al proprio figlio primogenito quella che non si può cedere per nulla al mondo però la si può rubare e questo fece Giacobbe col consiglio e l'aiuto di sua madre lei cucinò una buona pietanza per ringraziarmi lei lo fece rivestire con gli abiti del fratello lei perfezionò l'inganno ricoprendo le mani e il collo del figlio prediletto con pelli di capretto affinché non le sentissi glabre e scoprissi il raggiro Rebecca come potesti fare tutto questo quale serpente dalla lingua biforcuta ti consigliò io tanti anni fa nel paese di Abimelech ti recai offesa spacciandomi per tuo fratello e ancora me ne pent amaramente ma fu per paura e soprattutto per incoscienza perché la gravità dell'offesa la capì soltanto dopo tu invece tramasti lucidamente contro uno dei tuoi figli e contro di me e ben sapendo di compiere un'azione malvagia te ne assumesti la piena responsabilità Rebecca perché il nostro amore in acidi come il latte sotto il sole di mezzogiorno fu sola a causa della predilezione per Giacobbe che tessesti quel raggiro o fu anche per il rancore in esausto che nutrivi contro di me sin dai tempi in cui dimorammo nel paese dei Filistei nella mia mente rivedo la scena ecco una figura indistinta si accostò presso di me e alla mia domanda rispose di essere Esau ma la voce sia pure camuffata non mi parve la sua lo invitai allora a farsi ancora più vicino e a porgermi la mano e dopo che la senti pelosa e annusai l'odore delle vesti la mia diffidenza si attenuò ma non scomparve del tutto tanto che gli chiesi di nuovo se fosse proprio Esau e quando egli me lo confermò solennemente io credetti alla risposta menzognera e acconsentì alla sua richiesta di essere benedetto signore Dio e le grazie e le grazie piovano sugli agnelli mentre i lupi trionfano perché signore Dio sei così inconoscibile signore se la preghiera di un uomo arrogante che spesso ha dubitato di te della tua saggezza e benevolenza può essere ascoltata io ti supplico liberami al più presto dai mali del corpo e dall'inquietudine dell'anima liberami ora in questo momento di silenzio sospeso che preluda il silenzio pieno della notte e se grazie alla misericordia che è una delle tue prerogative tu vorrai salvare questo servo indocile fa sì che nel regno dei cieli possa finalmente comprendere il tuo mistero e trovare pace e riposo in te insieme a tutti gli affetti della lunga vita tutti signore compreso Kelev che mi ha sempre amato e se invece come tante volte ho temuto tu sei soltanto un nostro desiderio una sconfinata e disperata speranza di immortalità allora dopo la morte ripiomberemo in quel nulla da cui emergemo alla nascita e tutto sarà come non fosse stato mai Amen La voce di Isacco interpretata da Giuse di Giorgio e Cinzia Ferrero è magistralmente scritta e raccontata da Margherita Ogero due cose importanti il primo è ricordarvi il prossimo appuntamento martedì 18 febbraio il prossimo mese ore 18 lo dicevamo anche prima Gianluca Favetto ci sarà il reading presentazione di un'estrema solitudine anche qui il sottotitolo importante la creazione tutto quello che vi abbiamo raccontato questa sera quindi i contenuti del progetto tutte le varie iniziative tutte le varie anche oltretutto le cose che nasceranno da questa prima puntata perché ci sono delle riprese quindi anche quelle le troverete nei prossimi giorni sul sito www.scrittori www.scrittura.it invece il libro chiaramente come ogni presentazione che si rispetti lo trovate per chi l'ha già comprato benissimo se non lo trovate fuori c'è proprio uno spazio di FAT editrice con il libro in vendita esiste anche per chi fosse abituato a leggerlo e preferisse in quella versione chiaramente in versione ebook quindi anche scaricabile dai maggiori siti di vendita online ci sono poi ancora invece le ultime cose da dire che sono i titoli di coda i ringraziamenti ce ne sono parecchi ma è giusto farli per un progetto come il nostro il primo ringraziamento parte da questa parte del palco della sala e va verso di voi grazie davvero a tutti voi per essere state qui con noi questa sera ad avere visto insieme a noi il primo passo del progetto scrittori di scrittura grazie chiaramente a chi ci ospita quindi a tutto lo staff del ciclo dei lettori a partire dal direttore Antonella Parigi in particolare a chi ha gestito la parte tecnica e logistica quindi Franco Laganga e Andrea che ha gestito tutta la parte tecnica grazie mille per l'ospitalità loro se lo meritano un bel applauso grazie per quello che riguarda sempre la gestione tecnica anche a chi ha fatto le riprese quindi grazie ad Anna Bracco grazie le abbiamo ricordate prima alle voci narranti quindi Giussi Giorgio Cinzia Ferrero grazie mille a chi ha aperto la serata ovvero l'associazione Amici di Torino Spiritualità in particolare la sua responsabile Maria Chiara Giorda grazie alla casa editrice che fin dal primo momento in cui gli è stato proposto questo progetto ha aderito e ci ha messo come si dice molto del suo quindi grazie a EFATA editrice e a tutti i collaboratori a tutto lo staff di EFATA editrice è impossibile ricordarli tutti sono tutti raccolti in un abbraccio grazie alla facoltà teologica alla sezione torinese quindi in particolare grazie al preside Don Ferruccio Ceragioli e poi gli ultimi ringraziamenti vanno a chi ha condiviso il palco insieme a me quindi prima di tutto all'ufficio pastorale della cultura della Giosi di Torino in particolare Don Gianluca Carrega e l'ultimo ringraziamento va alla gentilezza la disponibilità e la simpatia con cui si è messa in gioco e con cui ci ha permesso di iniziare questa avventura in cui crediamo molto Margherita Ogero grazie davvero a tutti buona serata e alla prossima puntata grazie a tutti i nostri spettatori e alla prossima puntata grazie a tutti i nostri spettatori